Dopo un anno e mezzo circa di riprese, il film La leggenda del Gran Chiodoro è stato presentato alla città di San Cataldo a fine novembre. Da allora il film per la regia di Michele Falzone, tratto dalla storia scritta da Rocco Chignici, è stato riproposto in diversi concorsi sia nazionali che internazionali. In attesa di conoscere gli esiti, arrivano intanto le prime soddisfazioni. Ho voluto scommettere ancora di più su questo mio sogno che ho realizzato e stiamo partecipando a diversi festival nazionali e internazionali, tra cui sono 25 ad oggi i festival a cui siamo presenti e un primo festival abbiamo già ricevuto il premio come miglior film per famiglie adatte ai bambini. È il film festival delle Madonie e il 23 aprile avremo il piacere di partecipare all'evento della premiazione su questo lavoro che abbiamo fatto. Un film che parla del passato, delle abitudini di un tempo, il mondo della campagna rappresentato anche nella stessa locandina realizzata da Salvatore Fidone. Il film è una storia di contadini, una storia ambientata negli anni 40, quando non esistevano tutti i mezzi di oggi, televisioni, cellulare e quant'altro, e quindi le famiglie la sera si riunivano per raccontare una storia. C'era sempre il contadino più vecchio che raccontava la storia e quindi faceva appassionare tutta la famiglia. Da questa storia esce fuori il film della leggenda del Gran Giodoro, che ha appassionato grandi e piccini e ha fatto un attimino, ha fatto emozionare, scuote un pochettino le nostre coscienze, perché viviamo ormai in una società un po' presa da mille impegni e dimentichiamo i nostri valori. Si tratta della prima esperienza cinematografica per Michele Falsone, che ha coinvolto per l'occasione molti concittadini, 14 gli attori, diverse le comparse, presenti anche ai gruppi di ballo e musicisti. È il mio primo lavoro fatto con passione, con amore, coinvolgendo tanti amici e tante persone che ho a cuore, che mi sono trovato durante la mia vita. È stata una scommessa e sono pronto a fare altre scommesse.